non più cazzo sta in casa spiace con queste giornatine c'è un sole fuori e favoloso non c'era non c'è mezza nuvola creata non c'è e si guarderanno a casa voi lo guarderete a casa io no io e la mia famiglia siamo confinati qui con le altre 19 famiglie della palazzina di iolo che è stata sgomberata a seguito dell'incendio che si è sviluppata all'interno di un appartamento al primo piano quindi un inquilino poverino anziano e disabile non ce l'ha fatta è rimasto soffocato dai dai fumi così come è rimasto soffocato dai fumi un cane di un altro inquilino che stava al quarto piano e anche lui è salvo per mirano diciamo che il 10 di marzo è stata una nottata un po convulsa ecco quindi tra me e me mi sono trovato a carta puntata in questa stanza di albergo anzi voglio fare un ringraziamento alla pub alla protezione civile in primis perché sono stati i primi che in quel momento li hanno potuto mettere a disposizione un riparo per dieci persone improvvisando però li ringrazio sempre di questa assistenza e poi chiaramente comune servizi sociali che si sono attivati però per quello che riguarda il comune potrei anche dire come cittadino toscano e pratese ci mancherebbe il comune è riapposta anche purtroppo quando succedono queste tragedie questi problemi se no il comune che ci sta a fare e però vi dico avrei preferito di gran lunga essere a casa come tutti voi anche per fare la sfoglia per fare la pizza adesso è la situazione non so quanto durerà fino al 20 di marzo siamo ancora qui adesso c'è tutta l'inchiesta in corso stanno ribonificando tutto il palazzo quindi un po di tempo ci ci vorrà fortunatamente vi ripeto stiamo bene e anzi come si dice nella tragedia bisogna pensare anche a chi ha perso qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo perso noi ecco e quindi una cosa ecco una cosa potremmo anche farla intanto nessuno ce lo vieta siamo ognuno confinato nel proprio spazio sempre un altro bel bel brindisi all'italia agli italiani medici infermieri e tutte le persone addetti al sistema sanitario tanto di cappello perché insomma e ve lo dico per esperienza anche se lavoro in tutt'altra ambito il tessile eccetera però non c'è peggio cosa che lavorare con mezzi insufficienti perché tu senti che potresti dare di più però non puoi perché i mezzi sono quelli che sono ecco se una persona ha passione per il proprio mestiere che sia un medico infermieri filatore qualsiasi cosa ci rimane male che dici sì faccio quello che posso con i mezzi che ho quindi tanto di cappello ai medici infermieri e a tutto il personale sanitario e quindi però dicevo un altro bel brindisi di morellino va fatto all'italia agli italiani ci abbiamo fatta sempre e anzi facciamoci più furbi da qui davanti non dimentichiamoci di quello che stiamo passando oggi e come cittadini potremmo richiedere in futuro la stessa adesso non mi viene il termine la stessa c'è la punta della lingua la stessa fermezza la stessa intransicenza da parte dello stato quando tutto questo sarà finito anche per tutte le altre questioni che gravano sulla nostra salute e non sempre ci facciamo casa e sulla società in generale io accetto come cittadino ora che lo stato unica guarda deve fare un sacrificio per il bene di tutti c'è un cane portano a picciare di fare la spesa falla ti auguro di non stare male e quindi di non dover andare dal medico sono stai a casa e io cerco di attenermi a queste a queste direttive però anche lo stato quando tutto questo sarà finito dovrà comunque ricordarsi di essere stato e noi siamo sempre gli stessi cittadini al quale c'è stato richiesto di dare un contributo non è che quando finisce tutto questo poi dopo lo stato dice vabbè arrangiatevi ho un problema si vedrà no quindi ricordiamoci di tutto questo quando sarà passato e richiediamo uno stato che sia sempre stato non che sia stato buon weekend a tutti come si dice buona domenica buona pizza buona cena beate voi che potete fare la sfoglia lascia stare o mi ci fa pensare facciamo anche un altro brindisi non ho bisogno di particolari scuse però per fare un brindisi in questo caso lo rifaccio volentieri all'italia morellino di scansano vicino manciano accanto alla saturnia pitigliano saranno quando tutto questo sarà finito passateci perché una piccola fetta di paradiso e maremo ciao amici amiche